Buona giornata, ben ritrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica. Situazione incerta, specie nella prima parte del giorno al sud sul medio adriatico, per infiltrazioni di aria molto umida in quota, altrove andrà meglio. Nel dettaglio possiamo notare una giornata di variabilità con qualche locale spot piovoso sul medio adriatico e soprattutto il sud tra mattinata e primo pomeriggio, fenomeni a macchia di ghepardo. Altrove invece bel tempo al nord e sulle centrali tirreniche, ce lo conferma la grafica, cieli sereni o poco mulosi al nord sul medio ad alto versante tirrenico, la Sardegna, le ultime precipitazioni in mattinata sulle alpi occidentali, poi migliora e dicevamo variabilità con spot piovosi a macchia di ghepardo al sud. Ulteriori dettagli, approfondimenti sulle vostre località scaricando l'app T3B Meteo Grazie per l'abbiamo! Grazie a tutti.